Io vorrei tanto andare a Parigi E' cominciato, allora Magni esperte Spiega i rapporti di potere che ci sono tra l'entità del predatore e il gruppo predato Che comunque ha una sua autorità, se vogliamo E' il tempo giusto ora propizio Allora praticamente l'entità del predatore è semplicemente un uomo sicuro di sé Che più che essere un uomo è una figurina Uno stereotipo per eccellenza Che mano a mano mentre parla con questa donna ha un bivio, due possibilità Una è quella di restare un Tu marcio miscuglio di erbe raccolte a mezzanotte Che fa una figura di me**a e che non fa altro che peggiorare la sua banana alcolista Ma che è successo? Ma che è successo? Ma che è successo? La situazione è reale e lasciare un segno. Porco Giuda porco, meno male che dice che porta bene. Sì, siamo qua con Ludovico Galante alla Mostra del Cinema, un veloce commento per favore. Io penso che questa Mostra del Cinema sia una delle migliori che sia mai accadute in questo ultimo decennio. Come potete vedere qui è pieno di vip che stanno facendo i primi autografi all'arressa di persone che è qui. Che sono scalmanati come non mai e non riesco a capire come sia possibile una cosa del genere. In ogni caso, veramente fra dieci minuti vi diciamo come siamo riusciti ad entrare dentro il cinema per le prime proiezioni. Ricordo quella volta che praticamente cos'era successo, no? Ricordo quella volta che praticamente cos'è che era successo? Vabbè, basta. Si vede? È cominciato? Prima. No, a me non ci vedi, a me rivendi, rivendi. Cosa? Il registratore. Ehm, sì. Ah, che ammettisco tu. Aspetta una frase. E adesso? Sì, mettilo dietro al pane. Oppure sotto al piatto, mettilo qua. Tre volte dal veleno di Ekat infettato. Allora, io vado. Sì, no. Non c'è. Sì. È lo scozzo, sì. No, venta. Sì. No, no. È non solo. Ho trovato il video su Youtube con Maria Dei Filippi O.Agnon bio Sia da parte animale ok Immagino e sì, e penso che ognuno eh... rossi di qualche ossa di qualche ossa di qualche ossa cuocelo dai ricanalbangani e il mio fritto si uscilla e il mio fritto si uscilla la magia naturale la tua proprietà ben fanicate, ben paranoiate devo restare indietro devo restare indietro usurpando di colpo la salute della vita ed è tutto a posto sto riprendendo il mio amico ma non lo so che mai stato qua non lo so che mai stato qua hai sbagliato, rewind rifare e che cosa dicono mai eh no che per esempio oggi stavamo parlando di una cosa poi a un certo punto siamo finiti a parlare di di altro e io mi sono accorto che a un certo punto stavamo parlando di me una domani ok da tutti sembra però si tornate noi non facciamo fatti ciao 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 ciao